Hanno dominato sull'intera Europa per quasi 800 anni. Anzi, sul mondo intero era l'impero sul quale non tramontava mai il sole. Stiamo parlando della casata imperiale degli Asburgo e in pochi sanno che è nata proprio in questo piccolo castello ed ha preso il nome da questo villaggio argoviese. Tocchiamo veramente un pezzo di storia con questo castello. Qui entriamo in un castello che ha fatto storia e che è il castello fondatrice degli Asburgo. Erano piccoli conti qui sul territorio e poi è nata la dinastia degli Asburgo fino a Carlo V, a Maria Teresa e la famosa Sissi. Un castello molto antico, quello degli Asburgo, ha più di mille anni ed è situato in una posizione molto strategica dalla rocca si controlla tutta la Valle dell'Are. Esiste anche una leggenda che ci spiega questo posto particolare. C'è un certo Radbot, uno dei primi rappresentanti della casa degli Asburgo che faceva la caccia col falco e questo falco si è posato su questa colina e Radbot si è detto qui devo costruire un castello cosa fatta poi e come vediamo fino ad oggi. Qui ci troviamo in un altro castello costruito degli Asburgo, a una decina di chilometri, il bellissimo castello di Wildegg. Esattamente, è anche una fondazione degli Asburgo più tardi del primo castello e si vede anche un po' che ha cambiato durante i secoli. Una famiglia l'ha comprata più tardi, la famiglia von Eiffinger e questa famiglia ha amato molto lo stile francese come vediamo qui in questo bellissimo salotto pieno di una decorazione francese ma anche l'amore per l'arte e i dipinti. Lo vediamo molto bene qui nei giardini, negli orti della Wildeck che sono costruiti secondo un piano geometrico, una bella geometria ispirata dal regia del re di Francia, lo sguardo è su Versailles. Qui siamo nel rosetto del castello, sono rose che vengono dal mondo intero e con questo sole, con questa luce si vedono molto molto bene oggi di tante colori. Si sente anche un buonissimo profumo. Sì, assolutamente, incredibile oggi, veramente.